Salve amici del centro meteo italiano, aria più fresca e passaggio instabile che interessa la penisola. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per martedì 2 luglio. Precipitazioni sparse possibile al mattino lungo le regioni adriatiche dalla Romagna alla Puglia, più asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. Al pomeriggio instabilità in aumento con possibilità di acquazzoni e temporali a partire dall'arco alpino e zone interne del centro sud. In serata e nottata fenomeni spostamento sulle pianure del nord migliora altrove con nuvolosità in transito. Temperature minime e massime stabili o in generale diminuzione su tutta la penisola. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito o sulla nostra app meteo. Un saluto da parte del centro meteo italiano.